Siete pronti? Possiamo entrare nel clima, nel vivo di questa serata e del motivo per cui voi siete qua questa sera. Parliamo di eccellenze, questa sera parliamo di diverse eccellenze, cominciamo dall'eccellenza della musica, dell'arte, di questa grande arte. Quindi entriamo nello spirito di questo in più. Buonasera. Vi chiamo un'altra delle nostre eccellenze che è quella della cucina italiana, cucina che è conosciuta in tutto il mondo, ci fosse anche del buon vino italiano. E questa sera ovviamente così sarà. Quindi veramente a me adesso non resta che lasciarvi, lasciarvi per gustare, ripeto, queste due eccellenze. La prima più fisica, la seconda più mentale. Vi auguro veramente di godere una buona serata e di volare, di volare sulle ali della musica di Giuseppe Verdi. Buona serata e grazie per essere state con noi. Grazie. Grazie. Grazie.